Sentiti questa mattina in tribunale i primi testimoni dell'udienza che coinvolge due titolari e sette dipendenti dell'Adenino Trasporti. Si sono presentate circa 15 persone davanti al giudice dell'udienza preliminare Giovanna Bilò, ma si tratta soltanto della prima tranche della schiera dei testimoni. Altri 15 saranno ascoltati nell'udienza di martedì prossimo 31 ottobre, per un totale di circa 30 persone ammesse a rendere la testimonianza. Gli imputati, 9 in totale, sono accusati a vario titolo di estorsione, falso e truffa e danni dello Stato, favoreggiamento personale e voto di scambio. L'inchiesta era a partire ad aprile del 2014, in seguito a una denuncia presentata da alcuni autisti, che erano stati licenziati a loro dire ingiustamente. I nuovi imputati hanno già subito un processo ed erano stati prima prosciolti con formula piena e con sentenza di non luogo a procedere, ma dopo il ricorso in Cassazione da parte della Procura della Repubblica di Sulmona, oggi rappresentata in tribunale dal procuratore capo Giuseppe Bellelli, la vicenda è tornata davanti al GUP. Grazie. Grazie.